Oh perbacco, ma ci siete anche voi allora? Proprio qui, in questo posto dove è nata la prima challenge, la dizionaria challenge Perciò prima di iniziare io vi invito a lasciare like, a commentare e a condividere Soprattutto condividere, ma perché dico questo? Perché voglio sfidarvi ancora una volta qui dentro in questo tempio della leggenda Ho deciso che se questo canale in una settimana, da oggi, quindi da giovedì a giovedì prossimo Arriverà a 100.000 iscritti, io mi raterò completamente il pizzetto So canale, puttino Per voi sembrerà una banalità, ma io da 8-9 anni che non mi tolgo questo pizzetto Ho diventato parte di me, io non posso neanche uscire di casa senza questo Ah lo stai facendo per gli iscritti, lo stai facendo per le views, per diventare famose e popolare E io sai cosa rispondo a questo hater? Sì, anche, sono onesto, onestà vince su YouTube Italia Non potete capire lo sforzo che io sto compiendo per fare questo gesto insano, da pazzo E per portare un contenuto nuovo e innovativo su YouTube Italia Che non si è mai visto, una challenge, quando mai? Quando mai? Quindi mi affido a voi ragazzi Lasciate like, condividete con i vostri amici E vediamo se in una settimana riusciamo a raggiungere questo obiettivo E ricordatevi che quello che ho detto io l'ho sempre fatto Nel caso di conseguimento dell'obiettivo ci sarà il video dove io Estirperò il pelo Sta a voi decidere le sorti della mia vita e di quello che sarà il mio futuro Quindi ragazzi, dipende solo, esclusivamente da voi Mi vedete senza pizzetto? O l'avrò ancora?